e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video allora hai mai pensato di acquistare una bms online sicuramente sì se stai guardando questo video sono sicuro di sì e allora in online sia su aliexpress ebay amazon alibaba ci sono centinaia di migliaia di bms differenti produttori differenti più o meno buoni di qualità di potenza di efficienza di prestazioni ed anche di opzional negli ultimi mesi ragazzi un brand si sta diciamo distinguendo dalla massa e dali dali bms queste sono alcune delle loro bms parliamo di prodotti di qualità prodotti ragazzi che non scherzano si parla di bms che arrivano anche a gestire senza problemi correnti di oltre 500 ampere continui cioè ragazzi non so se mi sto spiegando 500 ampere vuol dire una scarica di corrente che è enorme e infatti le bms sono molto grandi e hanno grandi dissipatori di calore alcune hanno anche gruppi di ventole per la dissipazione attiva tantissimi sistemi di protezione cortocircuito in versione di polarità sottoscarica sovracarica delle delle celle poi possiamo dire che si suddividono anche in tipologia di chimica di cella ci sono quelle per l'ion per l'ife più 4 per lto e credo che in futuro se arrivino anche altre chimiche loro saranno sempre lì pronti per creare nuove bms appunto per ogni chimica come saprai dalla chimica varia anche la tensione di lavoro della cella massimo carico minimo carico eccetera eccetera perciò la bms è programmata in maniera differente se tu hai un pacco batterie per esempio lto non puoi andare ad acquistare una bms per litio ioni o se hai un pacco batterie litio ioni per esempio di un monopattino non devi andare ad acquistare una bms per l'ife più 4 o per lto perché non funziona fai danni e puoi rischiare grosso come vedi comunque sono belle davvero ben fatte sia esteticamente che come design il loro marchio di fabbrica il colore rosso co pitturano ecco fanno una lavorazione particolare agli allumini colorandoli in rosso e anche alle plastiche le serigrafie con gli incisori laser in bianco distinguono appunto i vari prodotti dei di massa con i prodotti da lì poi ovviamente c'è scritto da lì bms sulle scocche delle bms esistono di varia potenza come abbiamo detto 10 ampere 20 ampere 100 ampere 200 ampere 300 ampere 400 ampere in base poi alla corrente che il tuo impianto di accumulo necessita optional ne hanno tanti controllo remoto tramite bluetooth controllo remoto tramite usb controllo remoto tramite tablet smartphone hanno anche i sensori le sonde di temperatura che puoi andare a mettere su ogni modulo così tramite un tablet per esempio puoi tenere sotto controllo le varie tensioni gli assorbimenti la scarica e la carica in più anche le temperature di ogni modulo e diciamo che da lì si sta specializzando davvero in questo settore ragazzi mi piacciono sia come consistenza sia come potenza vi allego anche qualche foto oltre che quelle diciamo di repertorio anche qualche foto dal vivo con questi enormi bms in fase di utilizzo e in fase di spacchettamento all'arrivo sono prodotti ovviamente sempre cinesi però ragazzi cinesi di qualità se il video ti è piaciuto iscriviti al canale mi raccomando un like commenta sotto fammi sapere se anche tu hai mai utilizzato una di queste bms ti invito anche al corso battery maker se non lo sai è l'unico corso italiano sulle batterie litio sulla customizzazione realizzazione riparazione delle batterie agli ioni di litio per esempio delle bici dei monopattini degli scooter eccetera eccetera poi in arrivo a breve anche un altro corso a grande richiesta perché è stato richiesto da tantissimi di voi è il corso power wall maker un corso dedicato a tutti coloro che vogliono costruirsi è un pacco batterie d'accumulo da utilizzare in appartamento ragazzi sì per potersi diciamo non dico staccare al 100% dal lente fornitore energetico però tramite un impianto fotovoltaico o eolico ricaricare questi gruppi di accumulo belli grandi e poter avere energia elettrica gratis perciò se interessato sotto in descrizione trovi tutti i link anche al mio sito internet e alla piattaforma del corso in più ti ricordo di iscriverti al gruppo telegram dove inserirò i prezzi offerte promozioni errore di prezzo anche di molte di queste bms niente ciao e al prossimo video